Per le cose semplici, basta poco. E per renderle golose? Beh, per questa ricetta basteranno un bicchiere di farina, mezzo di zucchero e un uovo, e per finire un bicchiere di latte, mescolando tutto fino a ottenere la consistenza di una pastella. Ora passiamo alla cottura. Padella da battaglia, unta con il burro e mestolo della pastella preparata. Cuocere dai grandi lati e per rendere ancora più golose le nostre crepe abbiamo deciso di riempirle di Nutella. Piegate in due nella maniera classica e servite subito ancora calde. Semplicissime e golose da fare, ricetta senza bilancia e senza riposo veloce. Buona merenda!